Si avvicina sempre di più l'obiettivo Pescara ciclopolitana con la realizzazione del nuovo quadrilatero ciclabile tra via Caduta del Forte, via Marconi, via Conte di Ruvo e via D'Annunzio. Tre chilometri di pista ciclabile che dalla cattedrale di San Cetteo portano alla rotatoria del Rampigna passando per i due ponti, renderanno Pescara una città ancora più sostenibile, come dichiara al nostro microfono l'assessore comunale alla mobilità di Pescara Luigi Alborremascia. Quando i cittadini vedono tratti di pista ciclabili realizzate, come quelle che si stanno realizzando in questi giorni, circa tre chilometri di percorsi ex novo, magari pensano che siano segmenti di piste ciclabili a sé stanti. Invece no, ogni componente e ogni tratto di pista ciclabile andrà a costituire un sistema organico di piste ciclabili fatta di ideali petali con colori diversi, che su tutta la città andranno a costituire questo sistema organico di piste ciclabili che si chiama ciclopolitana. Un po' come le metropolitane nelle grandi città, dove ci sono dei punti di connessione, dove ci sono la linea gialla, la linea verde e la linea rossa. Allo stesso modo è stato concepito questo sistema organico di piste ciclabili, in modo tale che un domani, che io spero sia ravvicinato, si possa raggiungere il fatidico traguardo di 45-50 chilometri circa di piste ciclabili in città, che è un traguardo importante, quello che ha consentito anche al sindaco di Pescara qualche mese fa di avere un premio nazionale proprio sulla visione della mobilità sostenibile da parte della città di Pescara. Oltre quello che interessa via Caduta del Forte, la parte antistante del campo Rampigna, via Conte di Ruvo, che arriverà addirittura fino al ponte Risorgimento, stiamo lavorando anche per il completamento della pista ciclabile di via Pepe, che consentirà in tutta quella zona di poter connettersi poi anche al nostro lungomare, utilizzando via Pepe riqualificata. Ma ci sono anche altre piste ciclabili in fase di realizzazione, quelle che porteranno al polo della mobilità sostenibile a Pescara Porta Nuova, che correrà lungo il tracciato ferroviario di Pescara Porta Nuova, un'altra che sarà realizzata in via dei Bastioni, un'altra molto importante che porta verso la zona di San Donato e che ormai è in via di completamento. E poi contiamo di realizzare altre ciclovie urbane grazie a un contributo sostanzioso, che dovrebbe essere intorno a 700 mila euro, attraverso un decreto recentissimo del governo Conte, che ha stanziato a favore della città di Pescara o dovrebbe stanziare a favore della città di Pescara una somma ragguardevole per poter completare il nostro percorso, la nostra rete di piste ciclabili.